Palazzo Laskaris, illuminato di arancione, per celebrare la seconda giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita. Un gesto simbolico la sera del 17 settembre per rispondere all'invito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per attirare l'attenzione sulla sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari, tema particolarmente importante e sentito in questo periodo di emergenza pandemica da Covid-19. L'iniziativa è la prima di un progetto che il Consiglio regionale intende promuovere attraverso gli stati generali dello sport e del benessere, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla prevenzione delle patologie e sul contributo che ciascuno può dare alla salvaguardia della salute collettiva. Solo attraverso la crescita di una cultura della salute più attenta e vicina al paziente e agli operatori, ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale, si potranno avere significativi cambiamenti per la sicurezza delle cure e della persona assistita. Un'occasione quindi per richiamare l'attenzione, informare e consolidare la collaborazione fra cittadini e istituzioni sanitarie.